Come sapete si è concluso proprio ieri la sesta edizione del Torino Film Industry, dal 23 al 29 novembre è stata protagonista al circolo dei lettori, sette giorni di programmazione, market meeting, officina per la coproduzione internazionale per scoprire nuovi talenti nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. Si è svolta in contemporanea col Torino Film Festival con anche una buona integrazione tra le due entità proprio perché vuole essere l'anima business di questo avvenimento cinematografico cittadino, il Torino Film Festival che col passare del tempo ha sviluppato sempre una maggiore attenzione proprio all'aspetto industry. Allora io comincerei subito ad entrare nel merito e forse sapete che Torino Film Industry ha avuto tre fondatori che erano la Film Commission Torino Fiemonte, il Torino Film Lab del Museo Nazionale del Cinema e il Talent Short Film Market. E poi ci sono stati tre partner event che si sono aggiunti, la novità di Lovers Gas Industry e On Live Campus e la conferma dell'Italian Doc Screening. I numeri sono stati notevoli, li leggo, mille accreditati, 25 panel, sette sessioni di pitching, 46 progetti presentati e molto altro. Allora io comincierei subito però a dar la parola a coloro che la Torino Film Industry l'hanno fatto e incominciamo proprio con Mercedes Fernandez Alonso che come dicevo è la direttrice del Torino Film Lab. Devi premere il rosso. Ok, grazie. Allora per noi è stata sicuramente la conferma del fatto che questo Torino Film Industry ha come dire un senso veramente importante nella città perché mette insieme tutte le varie realtà e tutte le varie anime dell'industria che sono a Torino. È stata un'esperienza davvero positiva nel caso delle attività del Torino Film Lab. Gli otto progetti che abbiamo presentato hanno avuto ben 40 incontri in solo un pomeriggio quindi è riuscito veramente l'evento a avere quella funzione che diciamo sempre di punto di incontro. Ma più che risultati in realtà vorrei approfittare questo momento per ringraziare le persone che hanno contribuito a avere questo successo. In primissimo luogo il Museo Nazionale del Cinema, il presidente Enzo Ghigo, il direttore Domenico De Gaetano, e tutta la squadra del Torino Film Lab, in particolare il Head of Studies Francesco Giaivia, la Project Manager Costanza Fiore, Letizia Caspani per la comunicazione e stampa, Martina Iba, Content Manager e il Publication Manager Elio Sacchi. Una grazie speciale a Donatella Tosetti e Emanuele Baldino per veramente il loro prezioso lavoro. Allora, questo è tutto. Grazie Mercedes. Adesso la parola a Paolo Manera che ha diritto anche lui a due minuti ma con diapositive. Diapositive? Le diapositive delle vacanze e le foto della festa, preparatevi. Volevo parlare non solo dei Production Days ma anche della cornice generale di Torino Film Industry. Oltre a salutare e ringraziare Enzo Ghigo e Domenico Di Gaetano che sono stati anche parte di alcuni momenti delle giornate. Steve Della Casa che quest'anno è stato meno presente degli altri anni. In alcune edizioni è stato uno degli elementi fondamentali ma continua a essere quello che credo pervada tutto Torino Film Industry. Che mi piace pensare sia la proseguizione in altri modi di quel cinema giovani di tante persone ma in particolare Steve Della Casa. Quindi crederei un applausone grosso per questo ragazzo che ha contribuito molto a Torino Film Industry. Io ho una slide che avevo chiesto se potevo vedere subito, quella di Hollywood Reporter, non so se c'è. Ok, un ottovolante di emozioni, l'appuntamento dell'industria del cine indipendente, prospetto pieno di speranza per il futuro della città e della regione, più di un miracolo, ha scritto un Hollywood Reporter d'Italia non pagato. Non conosco neanche Damiano D'Agostino se c'è, volevo ringraziarlo. Volevo ringraziare però tutti i giornalisti e dire una cosa, ci siamo occupati di tante professioni nelle nostre giornate, non solo registi, film maker ma anche dronisti, vigili urbani, commercialisti eccetera eccetera. L'elenco ricorda, vado i giornalisti, non abbiamo ancora pensato a un momento dedicato a chi scrive di cinema, quindi volevo ringraziare tutti i giornalisti presenti per il lavoro che avete fatto, in condizioni che immagino non facili in questi tempi e un applauso ai giornalisti che secondo me ci sono meritano. Vorremmo fare prossimamente un evento dedicato a loro specificamente con il metodo Torino Film Industry, cioè come funziona, quali sono le regole del gioco, da dove venite, quanto vi pagano, se vi pagano e così via. Poi volevo, altra slide, quella di prima, no prima della slide volevo dire, le novità di Torino Film Industry sono sempre la cosa che rendono Torino Film Industry, le novità Lovers, Lovers, Lovers Go's Industry e Piemonte dal Vivo che si sono aggiunte, sono per quanto mi riguarda un segnale fortissimo, una scommessa che ci siamo presi, che credo sia andata molto bene e vorrei dire, come si diceva una volta, mai più senza. Se siete d'accordo potete applaudire. Sì? Siete d'accordo? Poi, i luoghi, il circolo dei lettori e tutte le persone che lavorano nel circolo, l'Heroa per la festa e il cinema romano e tutte le persone che hanno lavorato il cinema romano nelle nostre giornate industrie, credo che il segreto siano i luoghi e le persone. Questi tre credo che siano stati un altro punto fondamentale. Il programma, che ha visto tante cose, nel nostro caso animazione, workshop, con tutto quello che c'è stato, i docenti universitari, credo che l'Università di Torino sia stata fondamentale, le istituzioni li abbiamo resi anche più efficaci e coinvolti, credo. I libri, il circolo dei lettori, Guarda che storia e il Salone del Libro sono stati fondamentali. Tutte le associazioni di categoria, a partire da quella del Donne nel Cinema, che sono state presenti, ma tutte le altre associazioni di categoria. Credo che il senso di Torino Film Industry sia questo essere riunione, veramente di tutti. E poi, finalmente, lo staff, non li leggo tutti, cito due che non ho mai citato esplicitamente in questi giorni, e cioè Valeria Lacarra, che ovviamente non c'è questa volta, che oggi volta, ma anche in questo momento, e Sofia Falchetto, che insieme, le più maltrattate da me, posso dirigerare, che insieme a Emanuele Baldino e Donatello Tosetti sono i fondatori di una tribù che è aumentata, gli altri nomi sono, li vedete, vorrei dirveli tutti, ma ho finito il tempo. Vorrei mettere l'altra slide, quella della parte tecnologica, tecnica, grafica, comunicativa che ci ha assistito, credo che tutti quanti abbiate apprezzato questo nostro vestito, che secondo me teniamo, anche per una questione di economia, è vero Donatello? Teniamo applauso se siete convinti di tenerla. E poi i volontari, c'è una slide che, capite, non posso leggere tutta, ma vi invito a fare una foto alla slide, credo che siano delle persone di una bellezza e capacità straordinaria che sono stati il grande tesoro e quindi chiudo su, sono felice di passare la parola a Enrico sui cortometraggi, su quello che credo che si parte sempre dai cortometraggi nel cinema. Questo Trino Film Industry è partito dal Short Film Market, quando è iniziato il Short Film Market è stato un tassello essenziale per arrivare fino a qua. ed sono essenziali i cortometraggi, il festival qualche volta si è dimenticato ma credo che sia importante un altro punto che lascio, credo, a tutti. Continuiamo a lavorare su quello. Grazie e passo la palla a Enrico. Finito. Enrico Vannucci. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Grazie Paolo per aver ricordato l'ottava edizione del market, del corto, che è nato come Torino Short Film Market, adesso si chiama Talents & Short Film Market. Per me è stata un'edizione abbastanza dolce amara, devo dire, perché i numeri parlano chiaro, abbiamo avuto una riduzione del almeno il 30% del budget rispetto all'anno scorso e secondo il fondo rispetto a due anni fa siamo un 50% in meno. Questo ha comportato ovviamente una riduzione del nostro programma e quindi vuol dire almeno una ventina di talenti che non hanno potuto partecipare in pitch che sono stati cancellati, quattro pane assaltati e un sacco di problemi. Come ho scritto nella mia introduzione al nostro catalogo, se mi avreste chiesto 50 giorni fa, 40 giorni fa se avremmo fatto l'edizione avrei detto no, perché abbiamo avuto la conferma minima dei finanziamenti il 13 di ottobre e dal giorno dopo il team, che comunque sono 7 persone, siamo pochissimi, ha fatto un lavoro immenso e quindi va tutto il mio ringraziamento a loro e veramente senza di loro non l'avremmo fatto. Quanto tale è andato bene, i due giorni e mezzo sono andati molto bene, abbiamo avuto una buona affluenza e i feedback che abbiamo ricevuto live sono tutti molto positivi e anzi tutti quanti ci hanno incoraggiato a continuare ad andare avanti. Però sì, non nascondo che questi problemi finanziari sono stati grossi, soprattutto risentiti anche qui sul territorio e anche abbiamo avuto degli hotel che si sono tra virgolette giustamente lamentati che abbiamo avuto meno parlamentazioni per loro e abbiamo dovuto fare delle scelte purtroppo e abbiamo cercato di fare qualcosa di più piccolo ma di alta qualità. Credo che ci siamo riusciti, però appunto non nascondo che questa cosa ci ha molto colpito nella nostra operatività. Però sono contento appunto perché siamo riusciti in 40 giorni a portare a Torino sempre moltissimi operatori internazionali che sono venuti dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Finlandia, dalla Lituania, dalla Lettonia, dalla Francia e poi altri paesi, dalla Croazia, da molte parti d'Europa e in più siamo riusciti a farli dialogare con il tessuto dei professionisti italiani e anche ovviamente piemontesi e torinesi. E poi quest'anno una cosa positiva, veramente positiva, ne parlavo ieri con l'IA è che abbiamo visto tantissimi giovani venire al market in questi ultimi tre giorni e questa cosa sinceramente ti rende molto contento. Abbiamo, possiamo stringere un po' perché sennò... No, no, ho finito, volevo di nuovo ringraziare il team perché veramente senza di loro non saremmo riusciti a farlo. Grazie. Grazie. Adesso vediamo se sta nei tempi invece Angelo Alcerbi, head programmer di Lover Film Festival. Anche tu con slide. No, senza... Qui hai scritto slide. Si sente? Si, buongiorno. Allora, Lover's Ghost Industry era la sua terza edizione, la prima edizione all'interno del cappello, sotto l'ombrello del Torino Film Industry, perché era stata una richiesta che ci era stata fatta dal Museo del Cinema di combattare tutto quello che era l'industria del cinema sotto lo stesso evento ed è stata, devo dire, una richiesta funzionale, complessa per noi, però comunque funzionale e con un risultato molto buono. Noi siamo riusciti nel nostro piccolo, proprio piccolo piccolo, avevamo sei progetti, una ventina di decision maker, abbiamo fatto un panel molto interessante sul problema della produzione di film matematica in Italia, e non solo in Italia, cosa vuol dire finanziare un film o una serie tematica del GBT. e abbiamo avuto un riscontro molto molto buono e, diciamo, maggiore di quello che io personalmente, che sono un ansioso, mi aspettavo. Il fatto di essere all'interno di un evento più grande, il fatto di aver condiviso e anche un po' rubato gli spazi al Torino Film Lab, perché eravamo nello stesso giorno, ha fatto sì che il tipo di, diciamo, l'impatto che un evento come il nostro poteva avere è stato maggiore perché la platea di potenziali interessati è stata maggiore. Abbiamo avuto dei decision maker che erano al Torino Film Lab, che sono venuti anche a fare degli incontri da noi, abbiamo cercato di fare l'incastro, quindi io credo che sia, fatte le debite valutazioni e gli aggiornamenti, aggiustamenti, secondo me è una formula che funziona. Io voglio appunto rapidamente ringraziare il nostro micro staff, perché noi eravamo solo quattro, io che mi sono occupato della parte del panel e degli ospiti del panel e poi Valerio Filardo, Alessandro Uccelli, che si sono occupati della selezione di progetti e della produzione dell'evento e Serena Anastasi, che è stata la nostra salvezza, la nostra hospitality manager, che poi ha fatto tutto, praticamente, non solo hospitality manager, come è giusto che un hospitality manager faccia, poverina. E niente, quindi io direi che i risultati sono molto buoni, sono contento di questo inizio, sarà, cominceremo a lavorare un po' prima, dicevamo con Paolo che magari cominciamo a parlarci, non a settembre, ma un po' prima, però quello non è stata colpa di nessuno, era una questione di, come diceva lui, di sicurezza dei finanziamenti, che se non hai quelli non puoi metterti a lavorare. Quindi direi che tutto benissimo. Grazie Angelo. Grazie. Matteo Negrini, direttore di Piemonte dal Vivo. Grazie Steve, grazie dell'ospitalità. Due parole, solo per dare una chiusura a questa collaborazione, che non è nuova, diciamo, fra Piemonte dal Vivo e le realtà che sono a questo tavolo, ma su un tassello in più. On Live Campus è un nostro prodotto eretico, cioè ci occupiamo della relazione tra spettacolo dal vivo e digitale. Più volte, durante la giornata di On Live Campus, chi arrivava dal mondo dell'audiovisivo diceva questa roba non è cinema, chi arrivava dal mondo del teatro diceva questa roba non è teatro, io sono molto felice che questo prodotto eretico abbia trovato una casa. Dico casa perché, per come, se si scorrono le slide, non sto dicendo di scorrere le slide, ma scorrendoli, potrebbe dare l'idea di un condominio. In realtà vorrei ringraziare sicuramente la Film Commission Torino-Piemonte, ma anche tutti, a partire dai volontari, per aver reso questa manifestazione una casa e non un condominio. Concludo dicendo, abbiamo cantierato quello che sarà il libro bianco sul spettacolo dal vivo e il digitale, che verrà presentato nella prossima edizione del Torino Film Industry. Quindi l'affermazione di Paolo Manera, mai più senza, ci trova già con un contenuto. Quindi grazie ancora a tutti voi. Grazie a Matteo Negrin. E adesso per l'Italian Doscreening, Massimo Arvat e Lisa Vittone. Accendo, ecco, grazie mille. Allora, beh, innanzitutto, questa è stata per noi, diciamo, la quarta edizione degli IDS Academy, che è una delle principali manifestazioni che DOKIT, l'Associazione dei Documentarii Italiani, organizza per la quarta volta qui a Torino. Faccio un breve inciso, nel senso che io credo che noi qui a Torino, riferendomi anche a quanto è stato detto prima, abbiamo trovato un po' la nostra casa. Sia tradizionalmente, perché c'è un festival che ha sempre dato molta attenzione al documentario, e una film commission che, come dire, è nata, proprio una delle prime film commission a nascere, e è nata proprio, come dire, con un occhio particolare al documentario. Ma quello che mi preme dire è che io ho visto crescere questo mercato nel corso di questi anni, e devo dire che è veramente successo qualcosa di particolare, per noi che viaggiamo continuamente nei mercati. Possiamo dire che oggi Torino rappresenta una realtà veramente speciale, unica, un piccolo gioiello, nel senso che è cresciuta negli anni, ma oggi mi viene da dire che in queste ultime edizioni, più che crescere è affinare, la parola che mi verrebbe da dire, nel senso che è veramente uno spazio ormai in cui la diversità che oggi noi rappresentiamo e la capacità di convergere, come dire, appunto in una casa, crea davvero per i professionisti una grandissima possibilità di networking a differenti livelli che raramente si trova in altri mercati. Quindi secondo me, come dire, è una formula assolutamente giusta, azzeccata, unica e quindi volevo, come dire, innanzitutto congratularmi per chi ha avuto la capacità e la lucidità e la visione nel corso degli anni di costruire questo evento in questo modo. Detto questo, per noi anche quest'anno questa edizione è andata direi assolutamente molto bene, siamo direi molto soddisfatti di quello che è accaduto, per quanto riguarda di parte Academy il nostro matchmaking, che è lo spazio, direi che il principale spazio in Italia che è stato destinato, pensato e destinato proprio per l'incontro di autori, tra autori e produttori, quindi autori, spesso giovani autori che cercano produttori, è un segmento veramente critico perché non è facile far incontrare questi due mondi. Direi che gli DS Academy a Torino rappresentano ormai un, come dire, un piccolo monumento da questo punto di vista, di nuovo quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 progetti, abbiamo selezionato 10 progetti con un laboratorio molto attivo che funziona molto bene con partecipanti con e senza progetto, quindi una ventina di partecipanti molto affiatati hanno lavorato benissimo per tre giorni, abbiamo, come dire, portato in tre giorni questi autori a fare un pitch di fronte a una settantina di partecipanti, di decision maker, produttori, distributori, che sono stati tutti molto contenti, i feedback che abbiamo avuto sono molto positive, abbiamo organizzato anche noi in un pomeriggio 80 incontri tra produttori ed autori e quindi questa è più che mai garanzia che poi non a caso ogni anno nascono da questo incontro dei film che poi vanno e anche i grandi festival, abbiamo fatto appunto quest'anno anche i Stadi su Amor, che era uno dei film di DS che è stato presentato a Venezia, ne sono stati presentati altri due nell'industria, che sono stati film usciti dai DS che hanno avuto grandi percorsi all'interno dei festival, veramente qualcosa di importante e che si riconferma, trova a Quattorino la sua dimensione assolutamente funzionale. Di nuovo a Quattorino per il secondo anno e per la non edizione abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di poter conferire il Dohkit Professional Award, che è un premio che è riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i premi accreditanti nella consigliazione dei contributi automatici, quindi insomma un premio importante, che è stato attribuito quest'anno al documentario di Stefano Savono alle Mura di Bergamo e poi abbiamo avuto anche un premio della giuria a frammenti di un percorso amoroso di Claude Barrault e una menzione speciale d'Opera Prima per la timidezza delle chiome di Valentina Bertani. Chiudo lasciando la parola a Elisa invece che ci dirà due parole invece sullo spirito in cui abbiamo organizzato il panel quest'anno che ha costituito un po' anche una proposta nuova rispetto agli altri anni. Sarò rapidissima. Dunque, quest'anno abbiamo organizzato due incontri, uno sulla distribuzione dei documentari in sala, l'altro sulla coproduzione seriale in Europa, che si sono proposti non di essere, diciamo, un one shot, ma di essere un momento iniziale per la creazione di gruppi di lavoro che poi rifletteranno su questi temi caldi, caldissimi, per fare anche poi proposte da eventualmente portare anche a livello istituzionale. Quindi di questo siamo molto contenti perché abbiamo trovato veramente un grande interesse, una grande voglia di partecipare. Chiudo rapidissimamente con i ringraziamenti ai padroni di casa, quindi alla Fincommission, insomma a tutto lo staff, a tutti coloro che ci hanno aiutato, a tutto lo staff di Doquit, al board, al presidente, all'innovation manager, allo scrittoio, insomma a tutti. Grazie, grazie per di nuovo questa bellissima opportunità. Spero di non aver dimenticato nessuno nei ringraziamenti, ogni tanto mi capita. Insomma, ringraziamenti mi sembra che ce ne siano stati nel complesso della conferenza. Non so se ci sono delle domande, abbiamo cinque minuti di tempo ancora, se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Le date del prossimo anno le sapete già in maniera? Dobbiamo decidere se lo facciamo, c'è un dibattito interno. Ci sono delle proposte, una è quella di spostarci in un'altra città francese, ieri via a maggio. A maggio, ho capito. Perché lì costa tutto poco. Costa poco. Se noi riusciamo, comunque riusciamo a organizzarlo. Sicuramente no, sulle date vorrei dire una cosa, non so se posso riavere la slide, quella dei volontari. Senza slide. Senza slide, ciao. Ormai ho ancora un po' di donatella, adesso senza slide. Allora, noterete, se avete visto fino a là, che ci sono pochissimi, Mario, Laura, Maria, ci sono nomi tantissimi da tutto il mondo. Credo che l'internazionalità non fosse soltanto quella degli ospiti che sono venuti da tutta Italia e anche dall'estero. vorrei anche segnalare, nessuno di questi pagato è venuto perché, nonostante alcuni vertici e responsabili professionisti di altissimo livello, hanno dedicato il loro tempo per venire a Torino, perché ci vediamo a Torino è diventato per molti un riferimento. ma ecco, i nomi dei ragazzi che, perché sono qua a Torino per studiare all'università, al Politecnico e in altri centri di formazione, perché pensano che Torino sia un luogo in cui vivere, con un livello di qualità e di rispetto e di diritti che non ci sono in tanti posti in Italia, ci dicono, ci capiamo. Quindi mi viene da pensare che tutta sta roba qua è un po' brutto dirci ci vediamo tra un anno. Credo che dobbiamo farci un pensiero che lascio a tutti e poi se volete, come si faceva una volta negli anni 70-80, se ognuno ha voglia di lasciare le firme delle idee sul quaderno con le biro, secondo me è il tempo di pensare che forse dobbiamo vederci tra un anno, ma un po' prima e forse più volte nell'anno. È una minaccia. Non so se ho risposto alla domanda. Sulla base di questa nota di moderato ottimismo, come diceva, credo che il tempo sia scaduto, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio Torino Film Industry per aver fatto questa attività che è veramente fondamentale, perché era proprio l'aspetto che mancava al festival quando è nato, ma è anche una cosa la quale il festival ha sempre mirato, sui modelli a cui si ispirava all'inizio, tipo Rotterdam e così via. Siete riuscite a realizzare questa cosa che è veramente molto importante per tutto il sistema cinema torinese. Grazie. È colpa tua! È colpa tua!